allora è tutto pronto è l'ora di scendere dal cavalletto vedete ancora la ruota è sospesa ho montato tutto il motore adesso manca solamente la miscela la metteremo al due e mezzo per cento perché avendo il cilindro il pistone nuovo le fasce nuove il cilindro lappato quindi daremo un po più grasso ammortizzatore regolabile certo non è quello a gas ma chi se ne frega ma qui costa i soldi costa i soldi e quindi mi accontente poi è più originale possibile anche se quello già non è originale quindi perché era semplice quindi mettiamo ma che emozione che c'ho guarda c'ho un'emozione perché cioè se parte penso che faccio i salti di gioia guarda mi faccio già un giro in mezzo alla campagna qui dai lasciando ciò fa lo? ce la farò non la posso tirare avanti buona sguinta un po impolverata è un anno che sta ferma qui ferma nel senso che ho avuto poco tempo quindi guardate le ragnatele qui ragazzi mica sto spasso per dire no allora adesso gonfio le gomme e poi metto la miscela e poi vediamo l'ho fatta molto grassa il primo litro e mezzo me la gioco così male non mi farà tanto lì tre e mezzo chissà se parte sarebbe la più grande soddisfazione sarebbe la più grande soddisfazione sarebbe chiuso apriamo mi fa tornare ragazzo immaginate sono quelle sensazioni che non si possono spiegare che solo chi l'ha vissuta le può capire quante volte ho fatto la miscela vabbè adesso non guardiamo la pulizia poi dopo ci pensiamo tamponi nuovi dov'è che vanno a toccare questo che angoscia allora così è spento così è acceso vediamo devo ancora giocare devo aumentare il minimo wow io mi la verità Mi sa che devo regolare questo qua di fianco Vabbè già che parte Vabbè già che parte Vabbè già 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 parte